L'ospedale di menaggio sarà riorganizzato ma manterrà in ogni caso la valenza di un ospedale per acuti con il pronto soccorso. Lo ha assicurato il nuovo direttore generale della SST Lariana, Fabio Banfi. L'inizio del suo mandato coincide con il ritorno del presidio del Centro Lago da Sondrio a Como con una retromarcia su quanto era stato introdotto dalla riforma sanitaria regionale. Il presidio di menaggio è un ospedale che mantiene e detiene una vocazione per il trattamento di pazienti acuti collocato in un contesto che dal punto di vista geomorfologico è del tutto peculiare e il decreto ministeriale 70 prevede uno spettro d'offerta che noi intendiamo consolidare, mantenere e riorganizzare. L'obiettivo di Massima per noi però è quello, rimanere fermi ad un contesto normativo che prevede un nostro impegno su quel versante. L'altro aspetto è l'estrema necessità di formalizzare profili di collaborazione con le strutture che già insistono nel mediolario in modo particolare Gravedona che è una struttura molto complessa che è articolata sotto il profilo delle discipline specialistiche di elevata specialità e il COF di Lanzo per gli aspetti non solo riabilitativi ma anche di assistenza ambulatoriale. Quindi il problema è che dobbiamo fare di quel territorio un ecosistema dove sperimentare forme di collaborazione pubblico-privato sempre più efficaci ed efficienti. La prossima settimana è previsto un sopralluogo nel presidio e un incontro con il sindaco e i dipendenti. L'obiettivo è arrivare a predisporre il piano di riorganizzazione entro tre mesi.